E' una struttura carceraria, non è un ospedale. Uno si fuma solo dalle 13 alle 22. Ciao, sono Piero. E per anni il mio cellulare si è bevuto tutto il credito. Ci sono change di miglioramento? Ha molte chance di miglioramento, onorevole. Deve fare gli esercizi e deve impegnarsi. Vado qua. E' che non so scemo io. Bentornato. E tu chi sei? Il lungo sonno ti ha tenebrato così tanto. Da non riconoscere tuo figlio. Io non ho figli maschi. Adesso si. Dio. 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 Guarda che ti faccia restare, sparisci, portala via, portala via! O sapete che c'è? Che se quello era il re di Roma, allora portatemi la corona perché io sono imperatore. Sto solo, sto solo. Come stai? Papà. Non guardare, non guardare. Guerrieri! Salite a bordo, guerrieri! A merda! Già guarda quasi nuova di mortacci vostri. Cazzo fate in scienze quando devi sparare. Vota! Come si chiama il partito? Mi ha fatto ingazzare quando mi scordo le cose. Mr. Pimote, I'm at the end of the estate, I cover now. Ho detto non chiamate quando sto trucco! Out of my way now! Ma te guarda sta merda! T'ha scelto, ti ha la strada? Te è così, ma mica mi faccio un culace a guarda sto stronzo. Mo tanto aori più. Aori più, pezzo a nato tu mannato. E tanto della te mannato! Che cosa ti ha fatto? Finché c'è amore, c'è perdono. Comunque tu sia. Stai lontano dallo scurità. Tre minuti. Stai lontano dallo scurità. So. No. Chi satisca.